Si terrà domani, sabato 9 gennaio 2016, alle ore 9, nell'Aula Galilei del Liceo Scientifico Leonardo di Giarre, il Seminario Tecnico Centri Storici, promosso dall'Ordine degli Architetti e la provincia di Catania. Al centro del dibattito il recupero dei centri storici sulla base della legge regionale numero 13 2015, norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici. Interverranno il Sindaco di Giarre Roberto Bonacorsi, l'Assessore Regionale del Turismo Anthony Barbagallo, la soprintendente dei beni culturali di Catania Fulvia Caffo, il Presidente dell'Ordine degli Architetti Giuseppe Scannella e il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Santi Cascone. In rappresentanza del Lance di Catania interverrà il Presidente Nicola Colombrite per l'Associazione ArcLife, il Presidente Caterina Piro. Modererà l'incontro il Vice Sindaco di Giarre Salvi Patanè.